Ora ci dividiamo, voi due da quella parte, Giacomazzi ed io di qua. Occhi aperti, tra 15 minuti ci ritroviamo qui. Ehi, non allontanatevi troppo. Non dubiti, sergente. Ah, così tu fai. Se vuoi andare via, vai pure te. E' meglio rimanere compatti. Se fai una partidina. Qua era nuvola lassù, sembra una donna nuda. Ando' è lì? Guarda, quella è la testa. E quelle sono le tette. C'ha pure la barba, c'ha. Senti, sto uccelletto. Uccelletto, è un merlo. Mazza come cantano bene a ste parti di merlio. Stai zitto, aspetta. Sono arrivati fino a quassù. Nessuno. Dai. Io? Io sono un po' miope. Ha visto mai che non ho becco? Sei un pelandrone, sei altro che miope. Come tutti i romani. Appunto. Spara tu che sei milanese. Cosa c'entra questo? Io c'ho il principio che siamo tutti fratelli. E sono contro la guerra io. A lui no, però. Ma cosa ne sai te? E tu che ne sai? Hai già. Senza contare che domani potrebbe essere lui che amassa te. O te. Fami e bevi almeno prima il caffè. Eh? Eh. Che cosa aspettavate? Che mi vedesse se lo svigliasse? Andiamo! Svigliate da noi a letto. 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 Svigliate da noi a letto.